Il giudice sportivo Voi sapete che Acerbi era convocato in nazionale, via precauzionale anche per la tutela del ragazzo per evitare forme di distrazione da parte di tutti ma anche di scarsa serenità da parte sua, l'abbiamo lasciato a casa ma non l'abbiamo condannato. Lui ha spiegato ai suoi compagni come avviene per polisi interna della nazionale, ha dato le sue motivazioni, noi crediamo al ragazzo perché è evidente che è un ragazzo della nostra nazionale, è un nostro calciatore, un calciatore che indossa la maglia azzurra. Chi indossa la maglia azzurra noi sappiamo che si ispira a certi valori e soprattutto sappiamo che è un bravissimo ragazzo e sappiamo tutto quello che lui ha dato in altre circostanze per le persone che hanno sempre rivelato necessità di un aiuto di bisogno. Sul fatto specifico c'è una decisione del giudice che tutti devono accettare, me per primo, compreso anche chi si sente non soddisfatto, chi si aspettava o chi ha alimentato altre aspettative. Purtroppo noi sappiamo che nell'ambito delle nostre organizzazioni quotidiane esistono dei principi che devono essere rispettati altrimenti corriamo il rischio di far saltare tutto il sistema. Quindi per me, ve lo dico in molta chiarezza, io accetto il verdetto, do per scontato che quello è il risultato finale sotto un profilo tecnico legale, sul piano umano io non mi esimerò ad abbracciare i cerbi appena lo vedo, lo dico proprio sul piano umano, per me il ragazzo probabilmente non so se è andato sopra le righe. Grazie a tutti.